Il Festival Francescano 2014 che è in corso di svolgimento a Rimini non è soltanto un momento di incontri, conferenze, dibattiti, incontri con gli autori, presentazioni di libri, ma anche un ampio spazio è stato lasciato ai laboratori, alle attività di strada, agli stand e a tutta un'altra serie di iniziative per bambini e per adulti a mostre, a spettacoli teatrali e anche a momenti di preghiera. Tutto questo si è susseguito nell'arco dei tre giorni del Festival Francescano che per il 2014 ha avuto luogo ancora qui nella città di Rimini ma dal prossimo anno cambierà sede e si spostarà a Bologna. Grazie